Abbiamo preso atto che non c'erano le condizioni per portare avanti questa nostra idea, ma le idee che ispiravano questa mozione ci sono tutte. Noi consideriamo fallimentare la gestione del Ministro Alfano, almeno per quanto riguarda la vicenda di cui si è tanto parlato in questi giorni, in queste ore, e chiediamo che vi sia una forte espressione di censura all'interno della relazione che farà il nostro capogruppo verso il modo con cui questa gestione è stata condotta nel corso di questi giorni e in generale sulla vicenda in questione.